È arrivato il momento che tutti aspettavano, la finalissima del trofeo Pantamerda 2022, guarda. Calma, calma. Facciamo entrare la nostra Natascia, vieni pure Natascia. Grazie Natascia, grazie, puoi andare. Pia, 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 io non voglio guardare, non voglio guardare, non voglio guardare. And the winner is... Matteo Salvini! È bene, dai! Ma i premi fu così meritato. Salvini ultimamente è un vero campione. È riuscito a farsi perculare da un sindaco nazista polacco. Poi ha messo la faccia sui referendum meno votati della storia, commentando il fatto che a Palermo non aprivano i seggi per mancanza di presidenti. E Matteone ha detto, queste cose non succedono neanche in Burundi. E Ale, come un tito nazista! Oltretutto ha detto Burundi, che confia con la Tanzania. Dove la Lega in Tanzania, a dire il vero, si è sempre trovata benissimo. Noi siamo felici, ringraziamo Matteo e tutti i politici italiani. Ricordatevelo quando da domani entrerete in Parlamento. I pagliacci siamo noi. Noi siamo scemi, irresponsabili, inaffidabili, a volte persino disonesti, perché siamo dei pagliacci. Voi no! Voi dovreste essere delle persone serie, affidabili, persone su cui si possa contare. Voi dovreste essere il meglio che questa società può offrire. Ma che cazzo stiamo dicendo? No, no, continuate a fare i pirla! Fate casino che noi abbiamo le bollette da pagare! Mi raccomando! No, no, continuate a fare i pirla!